Strade dissestate, tombini da liberare e aree verdi da pulire. Accade in via maestre del lavoro nella zona dei colli di Pescara, dove i cittadini chiedono da tempo all'amministrazione comunale di avere più cura del proprio quartiere. Il malcontento dei residenti è stato raccolto da Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale e candidato sindaco per la città di Pescara alle prossime elezioni amministrative. Pescara ha bisogno di una grande opera di bonifica. Noi siamo tornati nuovamente ai colli, ma non solo. Tutte le strade di Pescara abbiamo registrato ancora e raccolto il grido disperato d'aiuto di tanti residenti, soprattutto di via maestre del lavoro. Questa è ancora una città sporca, maleodorante, piena di buche. Qui abbiamo ancora strade che sembrano bombardate, con voragini sulle strade e soprattutto marciapiedi completamente disconnessi che mettono anche a serio rischio la percorrenza dei passanti e dei pedoni. Ma non solo. La pulizia della città abbiamo ancora aiuole non curate, il decoro urbano completamente compromesso. Abbiamo situazioni di sporcizia diffusa e qui ci sono fogne che straripano, vengono fuori acqua in tutte le giornate di pioggia perché non sono a norma. Abbiamo palazzi, ater, proprio in questa via dove gli infissi non sono a norma e fanno entrare l'aria in tutti i momenti. Ecco, c'è bisogno di una grande opera, ma stiamo parlando di piccola manutenzione ordinaria, di operazioni basilari ed elementari. Bisognerebbe fare un grande rifacimento stradale, quindi manto stradale a norma, rifare i marciapiedi e metterli a norma perché i nostri cittadini devono poter camminare in maniera sicura. Abbiamo delle zone dove tutto è completamente compromesso, vanno fatte opere di decoro urbano e di pulizia, messa a norma davvero questa città. Questa città ha bisogno di essere una città accogliente, vivibile, sostenibile e sicura. Purtroppo stiamo ancora constatando che è una città sporca, malodorante, piena di buche e i nostri cittadini chiedono aiuto e nessuno li ascolta. Ecco, questo è un appello disperato, l'ultimo appello che fanno questi cittadini in amministrazione comunale. Purtroppo le amministrazioni comunali che si sono succedute alternate, centro-sinistra prima e centro-destra adesso, hanno lasciato completamente in abbandono. Partiamo da Via Maestri del Lavoro, qui va fatta una grande opera di bonifica, di messa a norma dei marciapiedi, di messa a norma delle strade, gli infissi che devono poter funzionare, le fogne soprattutto che devono poter funzionare. Ma questo si essende a tutto il quartiere Colli e non solo a tutte le altre zone di Pescara. Pescara ha bisogno di invertire una rotta di un sindaco che l'ami davvero, non di un sindaco che si volta dall'altra parte.